Il prof. Morabito, lei ha scritto Con la corona del rosario ho messo in fuga il demonio. Un titolo fondamentale, un titolo importantissimo che valorizza il rosario. Come mai ha scritto questo libro? Ho scritto questo libro perché un giorno nella mia sala d'attesa c'era una signorina di circa 30 anni, era un'infermiera di un ospedale famoso nelle Nocezone. A un certo momento sono stato chiamato nella sala d'attesa perché questa signorina era entrata in trance. In teologia si studia che il demonio è lì dove si manifesta. Entrando là dentro e vedendo che non si svegliava in nessun modo, come tutti i cattolici, iniziai a pregare. E' successa una cosa stranissima. Questa signorina si cominciò ad alzare in senso orizzontale in aria. E più pregavo più si alzava. Certo il fidanzato, un bel giovane alto di circa un mese e 80, temendo per la fidanzata, pensò di sedersi sullo stomaco della fidanzata. E io continuai a pregare. E allora si alzavano sia la fidanzata, sia il ragazzo, si alzavano sempre più in aria. E io pregavo e più si alzavano. Allora è intervenuta una paziente, pensando che col peso sarebbero scese tutte e tre. Io pregavo, si alzavano tutte e tre. E vedendo che questi si alzavano sempre di più, ho detto come potevo risolvere la situazione. Mi sono sfilato il santo rosario, l'ho messo sull'addome dell'infermiera che comincia ad scendere, il fenomeno è finito, in altre parole, il demonio è scappato. Quindi il rosario è la più terribile arma che l'uomo ha contro di lui. Come va è quindi il rosario che è tanto raccomandato dalla regina dell'universo, perché non dobbiamo dimenticare che la Madonna non è una santa qualsiasi, virgolette qualsiasi, ovviamente, ma è la regina dell'universo, potre che madre di Dio, eccetera, ma l'umanità. L'ha raccomandato in tantissima apparizione, quindi da loro, Fatima, Meggiugoria, eccetera. Il demonio stesso lo ha confermato, ma come mai è così osteggiato, e soprattutto, vorrei dire, in campo cattolico, perché io difficilmente vedo, ad esempio, dei preti o dei cardinali o dei vescovi con il rosario umano, anche a modo esempio per i fedeli. Come mai questo modernismo ha così bloccato questa efficacissima preghiera? Siccome ho l'abitudine di mettere il dito nella piaga, il fatto che certi cattolici quasi si verorgognano di tenere il rosario o recitarlo, per me è un'azione direttissima del diavolo su di loro, perché il rosario è una preghiera profondissima, cioè noi col rosario non solo mediriamo, ma anche contempliamo, direi di più chi è abituato a questa preghiera, entra spessissimo in uno stato mistico, per cui ha dirette, dirette, diciamo, comunioni con la Magia di Dio. Quindi è temutissimo, è temutissimo dal diavolo. Voglio qui raccontare un fatto che fra l'altro è diventato pubblico. Nell'ultima guerra mondiale, nella battaglia di Monte Cassino, un soldato americano era in una buca e ogni tanto si alzava, scappava per mettersi in un'altra. Arrivava una bomba e morivano tutti i compagni che c'erano nella buca precedente. È successo 4-5 volte. Allora un certo momento l'ufficiale gli disse ma come mai? Che cosa gli succede? In ogni buca dove sei stato i tuoi amici sono tutti morti e tu un momento prima sei scappato via. Ci ho detto, è quello che spose all'ufficiale, capitano, gli ho detto sono commosso, capitano mi disse mia nonna prima di partire dagli Stati Uniti mi diede un rosario e io l'ho portato addosso sarà appunto la presenza della Madonna che mi salva la vita. questo sappiamo chiaramente a conferma di questa testimonianza che è una delle tante testimonianze che si possono raccontare in riferimento rosario sappiamo l'odio viscerale che il demonio ha nei confronti del rosario chi ha frequentato o partecipato agli esorcismi sa quale odio quale avversione il demonio manifesta nei confronti proprio della corona del rosario quando vede che si legge con il rosario cerca di prenderla, cerca di spezzarla proprio manifesta un odio satanico nei confronti di questa corona che lui stesso, Lucifero e l'ho presente io in questo esorcismo disse che era più potente del bastone di Mosè cosa pensa di questo? si, si, io penso questo ripeto quello che ho detto anzitempo se io mi presento sempre in un ambiente con uno stesso amico e a un certo momento l'amico si presenta in quell'ambiente e io non ci sono lui rappresenta anche la mia persona la Madonna siccome compare sempre con la corona del rosario ora, certo la Madonna non dirà il rosario ma si presenta col rosario la Madonna non ha bisogno di dire il rosario però si presenta col rosario presentandosi col rosario vuole dire a ognuno di noi che quando uno porta il rosario porta Maria con sé la sua presenza la sua presenza mistica la sua presenza operativa ecco perché il demonio teme il rosario infatti molte volte se lo mette il rosario nel collo di un indemoniato il indemoniato lotta per non farselo mettere non resiste il rosario non resiste se no se uno riesce a mettergli al collo si sente la paziente liberata dice oh è scappato logico il rosario ha un'azione potentissima contro il diavolo voglio aggiungere anche però un segreto molte volte il cattolico porta il rosario come una cosa qualsiasi invece deve pigliare un'abitudine ogni volta che piglia il rosario per esempio faccio un esempio piglio questo rosario io prima di fare il rosario io lo benedico dicendo nel nome del padre del figlio dello spirito santo e chiamo lo spirito santo che mi invi la presenza della madonna allora questo rosario ho notato che diventa di una potenza strabiliante ho detto ad alcuni miei pazienti indemoniati di fare così hanno visto delle liberazioni veramente indescrivibili ecco allora io dico a tutti prima di pregare il rosario benedite il vostro rosario chiamate lo spirito santo che mandi la presenza della madonna vedete quello che succede tant'è che proprio Lucifero in un esorcismo in cui io ero presente disse che il rosario la preghiera del rosario intero quindi misteri odiosi e gloriosi dolorosi e gloriosi e ovviamente più uno recita meglio ancora perché questa è una cura una terapia che non fa male non dà ma fa soltanto bene è più potente di un esorcismo della chiesa perché la preghiera ovviamente è sempre potente e quindi tante persone possedute che hanno infestazioni che devono cercare a destra ma anche l'esorcista che non trovano perché non ci sono se pregano entra il corno del rosario o una volta che lo fanno ovviamente con il cuore è come se fosse il loro stato fosse stato assistito su di loro un esorcismo anzi più di un esorcismo quindi più pregano e più ricevono chiaramente potere liberatorio lo stesso Lucifero lo ha manifestato una persona ha definito la recita del rosario come un'armonia del cuore un'altra considera il rosario come un cordone ombelicale spirituale con Maria cosa ne pensa? io le penso che hanno ragione io dico questo che il rosario è guardare guardare e amare col cuore di Maria cioè quando uno dice il rosario per esempio e comincia a contemplare per esempio i mestieri dolorosi per esempio uno comincia a pregare che so Cristo che prega nell'orto degli olivi uno non deve pensare che sta ricordando Cristo deve pensare che la Madonna attraverso di lui sta vedendo suo figlio che sta pregando in quel momento e così per tutti i vari misteri dolorosi gaudiosi gloriosi della luce allora ecco che il rosario diventa veramente una immedesimarsi in Maria e la Madonna praticamente fa sì che un soggetto acquisisca una forza direi divina perché come che tu guardi e ami col cuore di Maria i misteri di suo figlio così tu potrai diventare come Maria per grazia della preghiera che lei ne ha insegnato un grande apostolo rosario è stato padre Pio oh sì e padre Pio ha lasciato come testamento spirituale poche parole amate e fate amare la Madonna pregate e fate pregare il rosario queste parole sono il testamento spirituale di padre Pio quindi questo grandissimo santo taumaturgico come faceva lui a confe si dice che tu recitassi più di 30 coroni di rosario al giorno come poteva lui che confessava tutto il giorno riuscire e addirittura mentre confessava pure pregava anche il rosario come poteva secondo lei riuscire a fare ecco questa è una domanda importantissima lo stesso che per esempio faccio un esempio se uno è con la sua fidanzata e parla con un'altra persona mica la sua fidanzata scompare è sempre santissimo così il santo il cattolico deve arrivare al punto di tenere la presenza della donna col rosario dialogando lavorando studiando ecco che cosa fanno i santi ecco loro non ci sono scuse per quello che dicono non ho tempo di pregare no 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 perché molti dicono non ho tempo non so come far pregare ecco sono solo scuse diciamo che sono scuse perché è possibile magari potessi il padre Dio che mi confessava e tutti i giorni ho visitato più di tre con me le tre colone in un'assistenza sia possibile farlo se uno è cattolico per concludere quello che dice il dottor Muscio non deve dire non ho tempo deve dire sono ignorante molte persone però non finalizzano il rosario anche quelli che lo recitano per esempio queste abituate per cui se noi dovessimo fare una domanda ad esempio a quanti lo recitano in chiesa per esempio della messa se qualcuno dovesse andare in questi gruppi che prima cominci c'è l'elevazione eucaristica recitano il rosario e dovesse domandare ma perché avete pregato questa preghiera quali sono le finalità io sono convinto che la maggior parte direbbe no non lo so abbiamo pregato perché così uno ha cominciato credo invece che sia indispensabile anche perché ci colleghiamo così al famoso chiedetevi che ci sarà dato bussare il sorperto di Gesù della bocca della verità che è Gesù della parola di Dio che venga finalizzato il rosario quindi c'è chi finalizza i misteri c'è chi finalizza invece la corona intera cioè secondo i quanti ne prega però finalizzato a suppriche a lodi a ringraziamenti a protezioni a liberazioni secondo me è necessario acquisire l'abitudine a finalizzare la preghiera anche perché ci sono correnti ai gruppi di preghiera che per esempio di lode di supplica di grazimento quindi non è solo di supplica solo di sollicamento ma è molteplice quindi pregare solo come qualcuno insinua per la lode o solo per la supplica è errato Gesù ci ha detto chiedetevi sarà dato bussatevi sarà aperto quando noi riusciremo a concretizzare queste parole riusciremo anche a dare potenza ulteriore al rosario in maniera che diventi veramente quella preghiera che in forza della quale dal cuore di Marco di Maria e dal sacco cuore di Gesù scaturiscono quelle grazie che ci sono necessarie per la vita personale familiare sociale io sono d'accordo con il dottor Muscio faccio un esempio ultimamente mi hanno detto che è molto lontano da Bergo c'è un mio amico in gravissime condizioni di salute infinita bene io quando cresce di rosario ogni avaria che dico ogni avaria non ogni rosario che dico ogni avaria lo raccomando la madonna che salvi che lo tenga fra di noi allora se uno dice che la preghiera è solo di lode è mal informato il cattolico sa che abbiamo preghiera di lode preghiera di penitenza ma abbiamo anche le predispizioni quindi la petizione è buona dalla madonna quando diceva queste sono le grazie che non mi chiedono io non posso fare allora se uno capisce la mamma stessa che vuole che uno le chieda perché uno fa le grazie quindi se uno non le chiede è proprio da visire psichiatricamente è proprio